all'interno della scia che rilascia diverse e quali sono le sostanze rilasciate allora hanno tutti diciamo quello che me che mi arriva è che comunque mi sono arrivate queste tre immagini perché percepisco che hanno tutte tre rilasciano in determinati momenti la stessa la stessa tipologia di scia e quindi vedo anche il la composizione di questa scia simile allora io percepisco bario percepisco schegge metalliche di tipologia indefinita è come se non riuscisse a alluminio forse adesso mentre la toccavo mi è arrivata la parola alluminio mi arriva che ci sono anche all'interno una serie di sostanze nocive sostanze nocive che si vanno a depositare all'interno dei polmoni questo deposito ha poi delle conseguenze all'apparato respiratorio poi percepisco pulviscolo pulviscolo sono delle piccole micro 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 nano particelle né scure nere come se mi venessero a dirti che il polviscolo atmosferico che si può ritrovare in una città inquinata vedo la stessa più o meno si assomiglia cioè come paragone mi viene quello poi mi arriva litio è arrivata la parola litio vedo organismi viventi come se ci fosse qualcosa di di vice come se ci fossero delle piccole particelle viventi di qualcosa che ha di origine biologica quella più grande si brava mai allora quella più grande che percepisco è l'alluminio alluminio lo vedo è un'altra forma non è nemmeno rotondo lo percepisco sempre quando attraverso il microscopio tipo rettangolare quindi ha una forma squadrata ed è come se quasi proprio tagliasse una volta che all'interno del corpo quando viene inalato respirato come se creasse delle micro micro ferite minuscole perché comunque si parla di nano particelle va a creare tutte queste piccole lesioni dove nelle parti del corpo che che tocca e poi si deposita si e si deposita si accumula anche vedo perché è molto difficile che il corpo riesca a smaltirlo quindi vedo proprio dei dei depositi cioè una volta ha fatto tutto questo percorso si deposita diciamo che più o meno allora tutte queste sostanze che abbiamo elencato sono tutte nocive per il nostro corpo non ne vedo nessuna diciamo che in qualche modo può essere benefica e indipendentemente dalla dimensione ognuna crea un micro trauma all'interno del corpo perché queste particelle sono presenti nell'aria allora alcune di esse sono presenti nell'aria perché sono emesse anche per esempio da i tubi di scappamento stessi mi viene cioè sono generate anche da tutto quello che diciamo sappiamo bene essere causa di un inquinamento atmosferico altre invece vengono in qualche modo spruzzate nell'ambiente in modo volontario cioè c'è una volontà di voler in qualche modo disseminare nel nell'etere questo tipo di sostanze e questo viene svolto da queste tre tipologie di eri cioè può essere svolto perché se non sempre questi eri poi sono adibiti a questo tipo di funzione insomma possono anche non non farlo ecco dipende da dove vengono sviluppate tali particelle artificiali in lab in dei laboratori vedo che ci sono del dei professori degli scienziati che si occupano di genetica mi è arrivata questa parola sono si occupano di genetica e studiano dei mix di sostanze che hanno un impatto nel corpo umano che va in qualche modo a modificarne proprio la genetica stessa quindi potessero mutare cioè queste catene che loro creano no hanno e hanno bisogno in qualche modo di potenziarle perché perdono efficacia non c'è possono perdere efficacia e quindi lavorano per per rinforzarle ok osserva le sostanze aerosol artificiali radiate nell'atmosfera dopo la ricaduta come entrano in contatto con l'ambiente circostante allora le vedo depositarsi in forme diverse su oggetti nella natura vedo anche come delle dei depositi sopra le macchine allora possono essere più percepibili o meno percepibili quindi a volte vedo che vengono come irrorate delle sostanze che sono visibili cioè proprio come se formassero delle specie di patine soprattutto visibili sulle macchine e poi le vedo in natura poi vedo quelle proprio le mini mini le nano particelle quelle più sottili invece che alle alleggiano diciamo così nell'aria e vengono inalate attraverso proprio la respirazione quindi anche andando a fare una semplice passeggiata tu puoi portare il tuo corpo attraverso la respirazione questo tipo di però anche attraverso il contatto è perché depositandosi un po all'esterno su diversi oggetti come macchine via dicendo anche toccando attraverso i pori della pelle come se fossero queste particelle un pochino più grosse diciamo che sono visibili e si possono vedere toccandole all'interno contenessero qualcosa che può essere veicolato dal corpo fisico dall'esterno all'interno ok possono essere presenti nei soggetti umani sì nel senso che un essere umano può respirare queste sostanze e portarlo all'interno del suo corpo ma non sono presenti per natura cioè non sicuramente non con questo tipo di composizione cioè no è una composizione che non esiste in natura è prodotta in modo sintetico qual è la percentuale nel mondo di soggetti con la presenza di queste particelle 80 90 per cento mi è arrivato 80 90 per cento una questo diciamo percentuale uscilla tra l'ottanta e novanta perché diciamo c'è un non so ce ne sono alcuni fra questi 10 10 per cento cioè tra gli 80 e 90 che li ha all'interno però li rigetta cioè come se li rigettassi per in modo proprio il corpo li rigetta in modo naturale li rigetta però non riesce a espellerli completamente quindi è come se ci fossero ma in parte il corpo li eliminasse quali sono gli effetti di queste particelle nel corpo fisico ed etarico allora corpo fisico stanchezza abbassamento della vista con fastidi oculari prurito occhi rossi come se una tipo quando hai la congiuntività no quella sensazione di avere qualcosa che che è entrato dentro l'occhio poi vedo che si depositano nelle larici e come se bloccassero il filtraggio del la funzione diciamo del naso comunque di filtrare i polviscoli diciamo tossici all'interno prima che entrino all'interno del nostro organismo quindi si depositano lì è come se poi se si sedimentano e quindi respiriamo continuamente queste sostanze che come abbiamo detto agiscono comunque anche attaccandosi alle pareti del nostro corpo quindi rimangono lì e li vedo che proprio fastidio come se ti prudesse il naso no un po di bruciore questo tipo di fastidio qua che potrebbe assomigliare se è un po anche a una reazione allergica cioè quando sei allergico a qualcosa questo prurito questo bruciore agli occhi e lacrimazione nel corpo etarico si poi vedo anche vanno all'interno si depositano nei polmoni insomma vedo tantissime cose allora a livello eterico allora che effettuano a livello eterico all'italia eterico c'è un indebolimento a dell'aura ovvero essendo in parte anzi in maggior parte particelle metalliche ed essendo noi un campo elettromagnetico noi emaniamo elettricità energia vanno proprio a inficiare su questo su questo nostro sistema sulla nostra radiazione diciamo creando come dei micro elettro shock che vanno in qualche modo a interagire sui nostri piani cioè sui vari corpi eterici quindi sul sul corpo emozionale sul corpo eterico c'è il doppio eterico del del corpo fisico su quello mentale quindi a cascata sia come un un indebolimento come una perché sono tipo del piccolo elettro shock quindi un po di stato confusionale difficoltà a memorizzare come se non ci fosse diciamo una una linearità no è sempre questi piccoli micro shock che che alterano in modo creando nervosismo anche ecco percepisco anche questa sensazione di nervosismo emotivo e mentale adesso prisca entra ovviamente col suo permesso dentro il corpo di una persona se dimmi come agiscono queste particelle artificiali allora vedo proprio tutto il percorso ovvero vedo scendere le particelle in questo caso dalla gola vedo scendere e in parte rimangono attaccate ai tessuti e li lavorano nel senso che attaccando e soprattutto quelle che abbiamo visto quelle specie di ventosine si è come se vanno a portare il loro contenuto attaccandosi ai capillari e quindi in qualche modo il rirà il rirà il rirà come si dice il rorano riva è irrorando il loro contenuto